Devo rispondere al messaggio di Addy. Che cosa le dico? Fallo sciolto. E come? Mandale un emoji. Ok. Forza. Benvenuto nel mondo nascosto nel tuo cellulare. Woohoo! Dove le emoji come me vivono e lavorano. Ognuno di noi ha un solo e unico compito e dobbiamo essere perfetti sempre. Messaggio in arrivo! Richiesta per un bar! Ah! Chi? Io? Che sta facendo? Sta facendo la faccia sbagliata! Ma che razza di... Il mio amico Gin ha un piccolo problema. Cavolo, ma come fai? Non lo so, lo faccio e basta. Puoi aiutarci? Seguitemi. Dobbiamo uscire dal telefono e trovare il codice sorgente. In marcia! Forza! Divertiti, eh! Prima di tutto dobbiamo trovare la password. Salve! Qual è il nome della ragazza di Alex? Si chiama Tina. Accesso immediato. Karen. Sara. Mi sembrava Lupita, ma adesso che lo dico ad alta voce non mi suona bene. Tu mi piaci esattamente come sei. Nessuno può lasciare il telefono! Cancellateli! Provo dei sentimenti fortissimi. Forse il mio destino è avere più di un'emozione. Dove mi trovo? Candy Crush. Divina. Dulce. Gustosa. Deliziosa. Non mangerò mai più una caramella per tutta la mia vita. Give me five, non farlo. Non mandarla giù, ti si è già riproposta. Figliolo, cosa si fa dopo essere andato in bagno? Dobbiamo lavarci le mani. L'abbiamo fatta grossa! Don't bring me down!